Se non si fosse la morte, che fine farebbe il mondo? Pensate per un secondo com'è che potrebbe andare. 200 reti, 300 papi, 4 milioni e 503 soldati, gli antichi greci, i longobardi, gli assiri maya, gli egiziani garibaldi. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Chi me è? È l'ora! Ma io sono la tua finestra! È l'ora di morire! Ehi, senti, così non va! Tu sai chi sono io, sono la morte e dovrei farti paura! Da quando non è possibile, io sono io! Io sono pronto a cantare in sacri sorote! Posso duro, ma ora ti tocca! Madonna, signor, che c'è sta! Oh, madonna che è venuto! Signori, toccatevi, toccatevi! Aiuto! 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 Non mi hai mai vinto, ma io non mi hai mai vinto! Ehi! Ho visto che la scherzo! Oh, 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 oh! Oh, no, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh. Oh, salva tutta, che male! Mi sono stata da la caviglia, vediamola! Oh, va bene! Oh, oh! Oh, oh! Grazie, modificate! Oh, pesca nelle carte! Prendi carte, grazie! Oh, che ottienesimo! bene, andiamo non sono mai contenti poi pianga, e piange l'ora ma non mi tocca morire non mi baciava pronto io non posso lasciare questo pazzo lo scatto di me il bellissimo regno il profumo delle contigene balla che tanto passa balla che tanto passa balla che passerà